Ciao, sono Alice! Ecco solo per te il volantino MD, in super anteprima! Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore! Ehi! Perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra. Piantala! Sì, ti sto dicendo proprio così, piantala! Piantala di sfogliare volantini di carta, ma soprattutto piantala è il progetto attraverso cui trova volantini insieme a voi, sostiene l'ambiente. Acquista una delle magliette, grembiuli, tazze, cuscini e pianteremo un albero che poi ti doneremo. Su trovavolantini.it, le offerte della tua città, a portata di un click! Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su trovavolantini.it Scoprilo subito su trovavolantini.it Lo so che vuoi vedere l'anteprima Eurospin. Non manca tanto, dai! Ti piace MDI? Continua a seguirci e vedrai l'anteprima prima di tutti! Ehi, ricordati che giovedì uscirà il nuovo volantino Lidl! Non perderti l'anteprima! Che ne pensi dei prodotti MDI? Perché non scrivi nei commenti? Dai! Ciao! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti